I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre, in collaborazione con i colleghi della stazione di fiumefreddo di Sicilia, hanno arrestato un diciottenne per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione. I carabinieri, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in largo Fleming del comune di Giarre, hanno intimato l'alta ad un'autovettura in transito, il cui conducente, anziché fermarsi, ha accelerato e superato il posto di controllo dei militari. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il fuggitivo, poi identificato per il diciottenne, ha messo in grave pericolo l'incolumità dei militari operanti e di altri utenti della strada presenti lungo il tragitto a causa della sua guida spericolata. I carabinieri, quindi, sono riusciti a fermare l'auto in via Trieste all'angolo con via Catania, dove il diciottenne è sceso dal mezzo continuando la fuga a piedi e nel frattempo disfacendosi di un borsello. Recuperato quel borsello, i militari hanno trovato al suo interno 20 grammi circa di cocaina e 6 di marijuana, mentre nel prosiegue della perquisizione dell'autovettura hanno rinvenuto un ulteriore borsello contenente la cospicua somma di 2.905 euro ritenuti in provento dell'attività di spaccio. Il diciottenne, pertanto, vedendosi privo di alternative, ha deciso di vuotare il sacco e per alleviare più gravi conseguenze giudiziarie, ha indicato ai militari un nascondiglio tra la vegetazione in un tratto sterrato della via Sebastiano Lisi, dove custodiva un barattolo di vetro occultato in un sacco di plastica contenente ben 5 kg di marijuana. I carabinieri hanno quindi posto l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.